Per il campionato over 35 siamo già alla stessa giornata che ci offre la sfida tra l'amici sestri Edil Caruso e la capolista Ivry United. I padroni di casa, riduci della sconfitta esterna contro la Decoair, vogliono la vittoria per scalare posizioni in classifica e risollevare il morale, ma l'avversario è ostico e si venderà cara la pelle, perché portare a casa i tre punti significherebbe mantenersi saldamente incollati alla vetta. Con un poker per parte calato dallo strepitoso Fabio Condomiti per i verdi e da Parodi per la Ivry, il match diventa sempre più acceso e spettacolare. Termina 5-8 per l'amici sestri che va a segno ancora con Antonino Condomiti. Per la Ivry, una vittoria strameritata firmata oltre che da un onnipresente Parodi, da Scarfò, Tripletta per lui e dallo Sciale.